Edwin van der Sar, recordman di presenze con la maglia dell'Olanda, spera che Robin van Persie non fallisca agli europei. Secondo l'ex portiere della Juventus, il centravanti dell'Arsenal deve ancora dimostrare molto a livello internazionale, nonostante i 25 gol segnati in 62 presenze con la maglia dei Tulipani dal 2005 a oggi. Io terrei d'occhio Van Persie, non ha mai giocato al massimo per gli Orange, in Inghilterra fa sfracelli, per l'Arsenal è una gran bocca di fuoco. Io spero che voglia dimostrare quanto vale anche quando gioca con l'Olanda. Sono 37 finora i gol segnati in questa stagione dal giocatore dell'anno in Premier League, una stagione che finisce in Polonia e Ucraina.